50 idee realizzabili in 250 provvedimenti amministrativi che già abbiamo messo nero su bianco e di cui abbiamo individuato le modalità di attuazione, le risorse per realizzarli e gli obiettivi che noi vogliamo colpire. Realizzeremo una città rinnovata e sicura scommettendo come primo punto sulla prevenzione del rischio sismico attraverso l'utilizzo dei fondi FAS 2013 ma anche di quelli 2020. Ci saranno 40 miliardi di euro che l'Europa darà direttamente ai comuni e scommetteremo in questo modo sulla edilizia. Le imprese torneranno a lavorare per ristrutturare, non per aggiungere. Faremo una città bella riaprendo i luoghi della cultura facendo in modo che la produzione di intrattenimento non sia più un privilegio ma che venga considerata una grande opportunità per tutti quanti coordinando l'offerta di tutto il territorio e aumentando la stanzialità del turismo. Noi scommettiamo su questo punto, recupereremo l'abbazia celestiniana attraverso l'accordo e la compartecipazione con i privati, riavviveremo il centro storico attraverso il recupero delle caserme e la trasformazione di queste strutture in case per giovani coppie e lo faremo anche qui con la partecipazione dei privati. Riorganizzeremo tutta la macchina organizzativa del comune riducendo i costi, diminuendo le funzioni apicali, diminuendo il numero di dipendenti ma aumentando i posti di lavoro attraverso le esternalizzazioni. Faremo una lotta dura alla evasione fiscale e creeremo con i recuperi che faremo attraverso questa azione più giustizia sociale migliorando i servizi e il welfare facendo pagare di più a chi è di più e di meno a chi è di meno. Così la città risorgerà in cinque anni con il nostro programma che potete consultare sul sito www.antonioiannamorelli.it La politica ha bisogno di riconquistare fiducia e la fiducia si riconquista solo se riusciamo a spiegare cosa vogliamo fare e come vogliamo farlo. Così noi abbiamo immaginato di cambiare sul Mona, così diciamo alla nostra città e a tutti quelli che ci sostengano e ci verranno a votare il 13 di gennaio certo che è possibile.